Ciao ragazzi, eccoci, questa è la nostra prova tecnica, inizia sempre così la nostra diretta. Oggi è mercoledì 2 marzo 2022, sono le 18. Dovreste sentire quello che dico, almeno dalla mia strumentazione qui e mandarmi cortesemente un ok, vedo che ne arrivano già tanti, grazie, così sappiamo che va tutto bene e adesso andiamo ad iniziare. Arrivo, eccomi qua. Ciao, bentornati sul canale YouTube di Associazione Culturale Maggiolina alla diretta settimanale del mercoledì. Allora, che cosa facciamo in questa diretta? Fatemi dare un'occhiata ancora un attimo alla linea per vedere che sia tutto a posto? Sì, lo è. Allora, in questa diretta approfondiamo gli argomenti della settimana, risponderò alle domande e quindi abbiamo un po' di tempo da passare insieme. Allora, innanzitutto vedo che ci sono già tantissime domande, fatemi disegnare la riga. Sotto a questa riga che ho disegnato adesso andrò a rispondere alle domande quando abbiamo finito l'argomento. Magari faccio un giro anche più indietro a caso perché vedo che ci sono un sacco di messaggi e quindi cercherò di individuare qualche domanda che mi è mancata nella chat, nel senso che durante la chat già sono stato al telefono metà del tempo e quindi non sono riuscito a rispondere a tutti, andrò a vedere. Nel caso riproponete la domanda qui perché sotto la riga inizierò a leggerle, risponderò e quelle a cui non farò in tempo a rispondere durante la diretta le vedremo sabato, nel senso nel video che uscirà sabato in versione registrata risponderò a tutte quante le domande per quanto mi sarà possibile. Allora diamo un'occhiata intanto alle cose che ci siamo detti questa settimana, le novità di questa settimana. Allora questa settimana sono usciti finora questi due video, abbiamo visto quando usare lo slash e il backslash, penso che sia abbastanza chiaro, non ci sono stati commenti particolari su questo argomento, mentre invece ho gradito vedere che c'è stato interesse per i pulsanti avanti e indietro del browser. Sono cose semplicissime della navigazione internet che però voglio fare comunque perché il nostro è un corso per principianti, quindi non vogliamo dare per scontato niente e soprattutto perché ci sono delle cose che magari sfuggono anche a noi più esperti. Anch'io ho imparato delle cose facendo questi video, per cui mi fa piacere che ci sia stato interesse per questo. Saluto Maria Elisabetta, grazie infinite per l'uso della Super Chat. Ovviamente per noi è importantissimo la tua Super Chat, i Super Sticker, gli abbonamenti di tutti gli amici che ci sostengono e tutti gli altri modi che trovate per sostenerci perché ci permettono di essere qui, quindi grazie, grazie, grazie infinite. Ho visto all'inizio della chat diversi messaggi mensili e il super messaggio mensile che hanno a disposizione gli abbonati e mi fa piacere vedere che siete sempre con noi. Allora poi domani, domani avremo a disposizione, domani giovedì giorno diciamo abbonati, abbiamo a disposizione lo sfondo degli amici di Maggiolina, quello nuovo, tutti gli amici di Maggiolina, abbonati e non, possono ovviamente prelevare lo sfondo e ci sarà questo video sulle scorciatoie tastiera. Vediamo come ricavare da internet un elenco di tutti i tasti scorciatoia, eccolo qua, ce l'ho in due pagine in questo caso, adesso non riesco a separarle, ma sono due pagine, di tutti i tasti che servono per navigare in internet con la tastiera e devo dire che è veramente interessante, l'abbiamo trovato su internet, l'ho cercato su internet perché me lo avete chiesto, nel senso che guardando i commenti del video, di questo video qui appunto pulsanti avanti e indietro, mi è stato chiesto ma per andare indietro, a parte premere su questo pulsante qui, posso farlo anche con la tastiera? Eh sì, prendiamola la tastiera così, intanto questa cosa qui la mostro, dunque la tastiera la posso prendere da qui, vediamola, eccola qua, quindi questa è la mia tastiera, questo è il mio elenco. Allora dicevamo posso andare indietro anche usando la tastiera, perché ragazzi i comandi a tastiera sono facilissimi, nel senso sono molto più pratici del dover prendere il mouse, sposta la freccia, schiaccia, fai eccetera, quindi è tanto sapere usare la tastiera, certo i comandi sono tanti, non ce li ricorderemo tutti, però ecco perché teniamo l'elenco e poi un po' alla volta serviranno e quindi domani ci esercitiamo sul come prelevare l'elenco, metterlo nel computer, sistemarlo eccetera, in seguito ci saranno dei video in cui ci specializziamo nei comandi a tastiera per utilizzarli al meglio e quindi anche per capire cosa servono, perché certe volte bisogna anche un po' diciamo spiegarseli. Allora per tornare indietro con la tastiera senza usare questo pulsante qui, a me capita a volte di premere questo tasto, il backspace, il tasto che va indietro per cancellare indietro e mi capita di finire indietro nella pagina precedente, non so dire come, magari quando facciamo il video dell'avanti e indietro ci ragioniamo, però io guardavo oggi che per andare avanti e indietro con la nostra, nella pagina internet con la nostra tastiera possiamo farlo anche tenendo premuto, vediamo se lo trovo, non è quello lì in navigazione, eccolo qui, tenendo premuto il tasto alt, questo, non alt gr che è da questa parte qui, alternative graphics, ma alt, intanto saluto Javina, ciao Javina, grazie, 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 grazie per l'uso della super chat per noi importantissimo. Quindi il tasto alt e freccia indietro equivale a premere la sopra, proviamo, metto lì la manina, così intanto lo guardiamo, alt, freccia indietro, vado nella pagina precedente, alt, freccia avanti, vado nella pagina seguente, quindi uso l'avanti e indietro di questi due tasti qua direttamente con la tastiera e trovo che sia veramente comodo, magari non lo useremo sempre, ma sapere che c'è trovo che sia veramente comodo, così come poi quando sarà ora di imparare questo tasto, il tasto aggiorna, eccetera, ci sono tutti i comandi. Va bene, allora togliamo la tastiera così non mi sbaglio perché io non la vedo sul mio schermo e quindi a volte parlo, indico delle cose e invece sono coperte dalla tastiera. Allora dicevamo, altra cosa che mi avete chiesto nei commenti di questo video qua è un argomento un po' più approfondito, nel senso che mi avete chiesto questo, vediamo se riesco a leggere proprio il commento, vediamo se lo trovo, mi piacerebbe leggerlo perché così riusciamo, eccolo qua, Marisa, Marisa mi dice Daniele posso cestinare la cronologia per alleggerire il computer senza fare danni? E questa è una domanda importante, è un discorso legato al nostro argomento, quindi approfondiamo. La cronologia l'abbiamo vista anche tenendo premuto qui, poi c'è mostra la cronologia e ho detto ne parleremo in un secondo momento ed eccoci quindi qui. Allora innanzitutto la cronologia non si elimina per risparmiare spazio, non occupa praticamente nulla all'interno del computer perché è solo una scritta. Amici di Maggiolina non è la pagina, alla pagina ci vado se ci clicco sopra, la cronologia è proprio solo il ricordo di essere stati fino lì e non occupa assolutamente spazio, occupa spazio ma mezza goccia nell'oceano probabilmente se vogliamo quantificarla in una misurazione diciamo per fare un esempio. Quindi non si cancella, non serve cancellarla per risparmiare spazio. La si cancella per una questione di privacy, magari mi dico ma no, sono finito in siti che mi dà fastidio, non voglio neanche che il mio computer si ricordi che ci sono stato, o anche perché a volte quando clicchi qua e cominci a scrivere www qui escono un sacco di cose e certe cose mi danno fastidio, nel senso che meno ce ne sono meglio è perché a me piace scrivergli gli indirizzi eccetera. Insomma quindi la cronologia lavora anche su questa cosa qui. Quindi voglio pulire la cronologia. Marisa mi chiedeva ma posso cancellarla così, voglio liberare spazio ma la posso cancellare senza fare danni? Quella è la cosa importante da dirsi, quindi al di là dello spazio ma faccio dei danni se la cancello? No, però devo sapere un attimo quello che faccio perché anche se non faccio danni al funzionamento del computer potrei togliermi delle possibilità e cancellarmi una cosa che invece mi interessava. Quindi vediamo questa cosa. Per la cronologia io posso andare da qui, finora il tasto è che abbiamo visto è questo, pulsante mostra cronologia completa, premo e la raggiungo, notiamo che si è aperta una seconda scheda, eccola qua. Oppure vediamo anche l'altra strada, quindi sono qui sul sito, vado sui tre pallini e qui trovo cronologia con dei vari comandi, quindi anche qui dei comandi cronologia. Se premo su cronologia arrivo subito qua. Allora ripeto, cronologia è la memoria dei siti in cui sono stato. Alle 18, alle 17.55, alle 12.11, 12.10, ieri alla talora, all'altro giorno, eccetera, eccetera. Quindi qui c'è memoria della mia navigazione. Non per sempre. Dipende dalle impostazioni dell'account, dalle impostazioni del browser e quindi c'è una memoria fino a un certo punto. 90 giorni, 30 giorni, adesso non ricordo mai questa cosa qui. Magari se scopriamo l'impostazione e la vediamo stasera, altrimenti indagheremo per un'impostazione futura in un secondo momento. Allora, quindi arrivo comunque qui. La cronologia può essere cancellata singolarmente, tre pallini rimuovi da cronologia, che secondo me non ha tanto senso, però ci sta, oppure invece può essere cancellata in maniera pesante, tra virgolette, in maniera seria, cancello dati di navigazione. Quindi avventuriamoci nel cancellare i dati di navigazione per renderci conto di quello che ci può servire oppure no. Allora, premo qua, cancella dati di navigazione, quindi si è aperta un'ulteriore scheda che mi permette di gestirmi il discorso cronologia. Allora, questa finestra del browser, quindi questa è una gestione che faccio del mio browser, in questo caso Chrome, funzionano più o meno tutti così, ma ogni browser è diverso e quindi bisognerà avere a che fare con i comandi relativi di quel browser. Allora, innanzitutto qui il comando, la finestra di comando di cancellazione dei dati è base o avanzata, quindi se schiaccio di qua vedo più comandi, se schiaccio di qua ne vedo meno, quindi più semplice o meno semplice. Allora, intanto, intervallo di tempo, posso cancellare la cronologia dell'ultima ora. Perché non voglio cancellarla tutta? Devo dire che il motivo è semplice. Capita a volte di aver bisogno di... Ma caspita, l'altro giorno ero andato su un sito e era venuta fuori proprio la cosa che mi interessava e non mi ricordo come si chiama. A volte capita di andare a guardare la cronologia, quindi ci si ragiona se si vuole cancellarla a tutti gli effetti. Altro discorso. Dico, vabbè, cancello la cronologia perché non voglio far vedere dove ho navigato. Magari sul posto di lavoro in pausa pranzo mentre mangio il panino. In quel caso si può cancellare la cronologia, magari dell'ultima ora, ecco che arriviamo al discorso. Ma sarebbe meglio navigare in incognito. Cioè, per non lasciare traccia nel computer e quindi dopo dover cancellare cronologia, lavorare, eccetera, posso navigare in incognito. Quindi in quel caso lì è proprio una cosa diversa. E lo vedremo in un secondo momento. Comunque qui cancello i dati di navigazione. Allora, ultima ora, oppure l'ultimo giorno, l'ultima settimana, l'ultime quattro settimane, ho tutta la cronologia. Quelle volte che lo faccio, che mi dico, vabbè, dai, cancello la cronologia, di solito cancello tutto dall'inizio. Però è una decisione che si prende di volta in volta a seconda del perché si vuole eliminare questa cronologia. Allora, che cosa cancelliamo con la cronologia? Allora, vediamo cosa dice intanto qui. Vabbè, andiamo avanti con questo. Cronologia di navigazione. Consente di cancellare la cronologia da tutti i dispositivi sincronizzati. Ah, questo è un discorso aggiuntivo. Vediamo qui, questa D sta ad indicare, beh, D come Daniele, sta ad indicare il mio account. Questo per me è il nuovo account da esperimento, da test, da corsi, che ho attivato nei giorni scorsi. E su tutti i computer in cui io utilizzo questo account ho la sincronizzazione, ovvero quello che faccio da questo browser lo posso vedere anche sugli altri computer. Perché ho scelto così? Ne parleremo di questa cosa, però se qui c'è il mio account proprio in linea qui con il browser, è perché ho scelto di essere sincronizzato e ritrovarmi tutte le cose per comodità. Se lavoro sulla cronologia da qui, essendo sincronizzato, sincronizzazione con il mio account attivo, cancello la cronologia anche dagli altri browser. Quindi devo essere consapevole di questo, che quando apro l'altro computer non è che c'è la cronologia là, perché l'ho cancellata qui e qui sono in sincronizzazione. Se invece qui non c'è la sincronizzazione, qui non c'è niente o c'è un omino e basta, non c'è sincronizzazione e la cancellazione avviene solo sul computer che stiamo utilizzando al momento. Quindi di questo teniamo colpo. Allora, se qui metto il baffetto, cancello il ricordo dei siti in cui sono stato. Ok? E quindi questi se ne vanno. Questo invece è il baffetto, e quindi se qui c'è, cancello i cookie e altri siti e altri dati dei siti. Allora, verrai disconnesso dalla maggior parte dei siti, ma non dal tuo account Google. Quindi i dati sincronizzati possono essere cancellati. Ragioniamo su questo discorso. I cookie. Cookie significherebbe biscotto in inglese e viene utilizzato anche per questa cosa del mondo internet, dei browser internet. Cosa sono i cookie? Cos'è un cookie? Il nostro computer, quando naviga in internet, praticamente su tutti i siti, per questioni tecniche, memorizza all'interno del computer stesso uno o più file con delle informazioni. Ringrazio Roberto. Ciao Roberto. Grazie infinite per l'uso della Super Chat. Grazie, grazie. Con delle informazioni, dicevo. Informazioni relative al sito in cui sto navigando e preferenze, impostazioni, nome utente, password, dipende dal sito internet. Quel sito internet memorizza delle informazioni da me sul mio computer per funzionare. Ovviamente si cerca di stare attenti ai cookie, ma più che altro si cerca di stare attenti ai siti in cui vado a navigare perché non si vuole che magari qualche cookie strano che in qualche modo ci danneggi in termini di privacy o in termini di funzionamento del computer entri in funzione. Quindi i software di controllo del computer sono attenti a questi cookie. e quindi ci sono e occupano spazio pochissimo. L'altra mezza goccia nell'oceano in questo caso quindi non è un senso di spazio per cui voglio cancellare i cookie. Però se sono stato in un sito che non mi è piaciuto, ci sono capitato accidentalmente, ci sono andato volutamente, no, mi ha dato anche quasi fastidio, cancello i cookie anche perché non voglio che quel sito abbia lasciato niente all'interno del mio computer perché se il sito proprio non mi piaceva tantomeno voglio avere della roba che può magari dialogare con un eventuale ritorno al sito, eccetera. Quindi cancello anche i cookie. Ci sono persone che cancellano i cookie sempre e addirittura che vietano al computer di registrare i cookie. In quel caso mi tolgo praticamente la funzionalità dei siti internet. Quindi non fatevi un eccesso di privacy e dire cancello sempre i cookie, non voglio che il mio computer li registri perché poi le cose non funzionano. I siti internet non funzionano. Mi capita spessissimo di dover avere a che fare con persone che non riesco a scaricare gli esercizi di Excel e non riesco a fare questo e quell'altro non funziona. Ma come mai che tutte le volte mie sono i cookie, ragazzi. Servono per funzionare e per far funzionare bene i siti. Ci sono sempre stati. Adesso quando andiamo nei siti ci chiedono guarda che questo sito usa i cookie li vuoi accettare? E allora già lì ti viene da dire no, perché se mi chiedi di accettare perché no. In realtà serve perché altrimenti quel sito non funziona. Quindi non facciamoci questa fobia. Ora sono obbligati a dirci questa cosa però non facciamoci questa fobia. Preoccupiamoci di più del dove andiamo a navigare e quindi i siti che possono magari essere strani o non andare bene e lo sappiamo un po' come queste cose piuttosto che dei cookie del sito di Google del sito di eccetera. Quindi se ci andiamo ci andiamo e quindi prendiamo quello che c'è in sostanza. Ok? E quindi però quando faccio pulizia faccio pulizia. Allora attenzione a una cosa i cookie potrebbero vedermi se li cancello vedermi disconnettere da siti internet in cui ero logato. Magari che so sul sito subito.it mi avete visto varie volte fare questo esempio ci si registra mi logo pubblico gli annunci vendo compro queste cose qui e magari ho memorizzato il mio accesso così che tutte le volte che torno sul sito non devo andare a riscrivere la password il nome utente eccetera. Se cancello i cookie si chiude l'accesso e la prossima volta che vado sul sito devo rifare io il lavoro perché il cookie manteneva l'accesso quindi attenzione a questa cosa cancello consapevole del fatto che poi mi tocca rifare l'accesso a questo sito a quello eccetera quindi devo sapere tutte le password eccetera. Se non voglio cancellarli tiro via e questi restano quindi ragioniamoci ragioniamoci io cancello. Allora immagini e file memorizzati nella cache consente di liberare nel mio caso 27 megabyte di immagini che alcuni siti hanno immagazzinato nel mio computer che il mio computer ha immagazzinato in conseguenza della navigazione di alcuni siti alcuni siti potrebbero caricarsi più lentamente alla prossima visita vediamo che cos'è questa cosa quando io vado su un sito internet ad esempio il sito internet Maggiolina ok questa immagine del sito internet di Maggiolina c'è sempre non la cambio mai raramente perché è un po' diciamo rappresentativo degli amici di Maggiolina siamo noi al computer la tazza di caffè eccetera insomma ok e quindi questa immagine rappresentativa tutte le volte che il mio computer il mio browser viene sul sito amici di Maggiolina questo che si amici di Maggiolina lui la deve scaricare perché gli serve per comporre l'immagine in realtà siccome è sempre quella lui la scarica solo la prima volta la mette da una parte come file il temporaneo e poi quando io ci vengo le altre 2000 volte non la scarica tutte le volte prende quella che c'è già questa cosa è un bene perché velocizza la navigazione internet e a volte un male perché comunque tutte queste immagini che si immagazzinano lì riempiono un po' il mio computer c'è un limite cioè non è che se io continuo a navigare in internet a un certo punto ci sono solo queste immagini e il mio computer non naviga più c'è un diciamo uno spazio dedicato a questa cache a questi siti e quindi a un certo punto quello che ci sta ci sta e il resto viene buttato via l'altro male è che a volte se io modifico il sito internet e il mio computer invece ha già la sua versione a volte io vedo la cosa sbagliata semplicemente perché il mio computer ancora non ha aggiornato non ha riscaricato l'immagine perché magari questa immagine si chiama nello stesso modo ma è totalmente diversa io continuo a vedere questa perché il mio computer usa la sua invece di scaricare quella nuova e quindi la cache i file temporanei eccetera servono per riuscire a navigare più velocemente però ci sta che ogni tanto quando si fa pulizia si pulisca tutto così si rinfresca tutto quanto questa immagine quando viene cancellata perché adesso noi svuotiamo la cronologia quindi questa sparirà viene comunque ripresa alla nuova visita del sito quindi la prossima volta che io tornerò nel sito amici di Maggiolina sarà qualche millisecondo più lento perché deve comunque scaricare anche l'immagine diciamo di copertina e quindi questo è un dato di fatto se cancelli la cronologia la tua prossima visita al sito internet potrebbe essere più lenta ma di poco dipende dalla linea dipende dal computer eccetera ma se non te lo dicevo neanche te ne accorgevi quasi però è così vediamo qua cosa dice la cronologia delle ricerche e altri tipi di attività potrebbero essere salvati nel tuo account google se hai eseguito l'accesso puoi eliminarli in qualsiasi momento mi sta dicendo qui che tutte le ricerche cioè quando io vado in google e qui scrivo qualcosa e adesso non c'è niente comunque quando scrivo qualcosa e cerco lì esce l'elenco di tutto quello che ho cercato non viene gestito dalla cronologia di quella schermata lì perché è un altro discorso legato all'account google e quindi questa cosa qui se mi dà fastidio vedere l'elenco di tutte le cose che ho cercato lo vedremo in un altro video perché è una cronologia diversa ok quindi questa è la cronologia base mi basterebbe dire cancella i dati e via in realtà siamo qui e vorrei vedere la cronologia avanzata cioè le opzioni avanzate perché servono e quindi anziché la scheda base vado in avanzate allora nella scheda avanzate trovo beh sempre ultima ora eccetera la stessa cosa quindi dico vabbè dall'inizio trovo una spiegazione diversa cronologia di navigazioni otto pagine in pratica io ho navigato in otto siti perché questo account su questo computer è appena stato messo in funzione quindi ce l'ho da due giorni e quindi ho navigato in pochi posti cronologia del download questo è nuovo la memoria di ciò che ho scaricato da internet non le cose che ho scaricato la memoria di ciò che ho scaricato e quindi conta poco si cancella a me non interessa in questo caso non ho nessuno grazie Anastasia grazie infinite per l'uso della super chat grazie 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 infinite allora i cookie da 5 siti quindi 5 siti internet hanno memorizzato dei cookie nel mio computer quindi nelle avanzate vedo anche il numero le immagini le abbiamo appena visto e quindi queste sono le cose solite poi e queste sono opzioni già preimpostate perché si cancellano si cancellano sempre insomma se no non ha senso fare la cancellare la cronologia però posso scegliere queste le posso cancellare quasi in dolore nel senso che al di là dei siti dove potrei essere disconnesso e magari mi dà fastidio per il resto il resto si cancella senza problemi quindi al massimo tengo queste cose qui dei cookie ma io li cancello qui invece posso fare una pulizia più approfondita e devo un attimo capire di cosa di cosa si tratta allora le password ed altri dati di accesso al sito se io cancello attivo questo cancello anche le password memorizzate nel browser sappiamo che possiamo memorizzare le password dei siti internet nel nostro browser non lo consiglio abbiamo visto vari sistemi per chi proprio lo vuole fare non è consigliato diciamo che meglio di no non voglio aggiungere altro nello specifico però non saggio e però ci sono persone che lo fanno e quindi attenzione se io metto così le password se ne vanno quindi se le ho salvate fino adesso e mi dico ma no dai puliamo così le butto via nel mio caso non ce ne sono e quindi che io lo attivi o che non lo attivi non cambia niente e se le cancello dobbiamo saperle perché al prossimo giro le devo digitare quindi se non le so se non le ho scritte non le cancello e magari le leggo una per una magari vedremo in seguito come fare se invece le so posso anche decidere di cancellare poi dati della compilazione automatica dei moduli qui non c'è niente e qui è bianco quindi è indifferente che io metta o non metta questa cosa qui però ci può interessare nel senso che è questo a volte ci capita navigando in internet di compilare dei formulari dei si chiamano form ma sono dei moduli online ad esempio che so devi inserire i dati dell'associazione perché sto facendo una richiesta di un qualche modulo eccetera allora tutte le volte devo scrivere associazione culturale maggiolina via gensomini 15 roma provincia eccetera poi insomma codice fiscale partita IVA devo inserire questi dati questi dati vengono scritti in caselline in campi modulo si chiama il browser li memorizza così che la prossima volta che io mi trovo a fare la stessa compilazione quindi devo compilare un campo e comincio a scrivere AS allora lui mi dice già associazione maggiolina via dei gensomini 15 roma eccetera quindi evito di scrivere tutto quanto da zero questa cosa è comoda ma a volte dà fastidio perché si vede perché magari una volta ho scritto l'indirizzo male caspita adesso tutte le volte mi salta fuori l'indirizzo male quindi cancellando la cronologia io posso decidere se tenere questi campi e quindi queste cose già precompilate perché mi piacciono o se cancellarle perché non mi piacciono o perché ho sbagliato a scriverle e mi dà fastidio vederle sbagliate tutte le volte quindi attivando questa casellina si pulisce si puliscono tutte queste compilazioni che io ho fatto in passato potrei anche fare la cronologia e cancellarne solo una cioè dirmi caspita quelli lì mi danno fastidio posso venire qui in avanzate e dire cancella solo i compilazione i dati di compilazione automatica dei moduli così mi pulisco i miei moduli e il resto della cronologia me la tengo ok poi impostazioni del sito e dati app in hosting non ho idea di cosa di cosa siano e quindi non dico niente perché non ho idea di cosa siano questo dati app in hosting web store non l'ho idea è una cosa nuova per me non so di cosa si tratta quindi lo lasciamo qui e magari ci ragioniamo in un'altra in un'altra situazione il resto pulisco dall'inizio cancella dati premo e adesso basta ho cancellato la cronologia e ho pulito tutto qui posso chiudere qui posso chiudere qui posso chiudere e vabbè adesso qua non c'è nessun sito queste si sono anche sbiancate le freccine perché cancellando la cronologia io ho dimenticato tutti i siti in cui sono stato se vado in cronologia beh da qua non ci si arriva in cronologia quando sono sbiaditi questi tasti non danno il comando quindi anche se sto tenendo premuto non c'è niente devo andarci per forza qui da qui in cronologia cronologia e è tutto bianco non ci sono più siti quindi massima privacy in questo in questo caso più che spazio libero qualcosina ho guadagnato dalle varie immaginette ma erano poche nel mio caso ce lo quantificava e quindi lo possiamo sapere va bene questo era un po' il discorso la cronologia vedremo in seguito le domande eccetera eccetera commenti che usciranno sotto al video in futuro vediamo se c'è da approfondire qualcosa e magari se troviamo anche che cosa sono quelle due quelle due voci magari qualcuno lo sa e ce lo scrive nei commenti e quindi ci agevole il lavoro allora ho disegnato la nuova riga in chat faccio un giro in chat prima per rispondere magari a qualche domanda che possa essere sfuggita in seguito allora vedo dunque vediamo Benedetto che dice per vedere le dirette e le chat a questa collegata basta essere iscritti al canale la chat si vedono le chat si vedono solo durante le live per una questione tecnica bravo Benedetto in pratica per vedere queste dirette delle 18 e se si è amici di Maggiolina link alle nostre dirette oppure dirette del mercoledì questa è nello specifico questa diretta mentre questo invece fa vedere qualsiasi la prossima diretta la si vede lì oppure sul canale youtube associazione Maggiolina quindi se scrivo as Maggiolina sul canale youtube arrivo vedo la diretta oppure mando una notifica quindi ricevete una notifica ragazzi oggi alle 18 siamo in diretta se siete iscritti al canale sotto c'è iscriviti al canale attiva la campanella ti arriva questa notifica un 1 da andare a premere per dire che c'è la diretta e cliccarci sopra a proposito vedo un sacco di mi piace grazie ragazzi perché sono importanti per noi quindi chi fa in tempo a metterlo adesso dice ah si mi piace mi ero dimenticato sotto c'è il pollice in su da andare a premere per dire mi piace bravi vedo che stanno già andando su altro modo canale telegram sapete che abbiamo il canale telegram qua in fondo sempre as Maggiolina lo trovate anche se cercate in telegram il nostro nuovo canale in realtà ormai è da un po' che c'è poi i nostri social facebook instagram eccetera un po' dappertutto viene dato notizia di questa diretta in modo che in qualche maniera la intercettiate però di standard tutti i mercoledì non festivi ore 18 siamo qui la diretta comincia alle 17 con la chat in cui se non sono al telefono come oggi cerco di rispondere alle domande in precedenza e poi parte la video diretta quella che stiamo guardando in questo momento la chat si vede solo dalle 18 alle 19 del giorno della diretta poi scelgo di toglierla per una questione tecnica quindi gli amici che fanno domande e a cui vado a rispondere le leggo in chat ora e se guardi il video più tardi o un giorno dopo non c'è più puoi sentire solo quello che dico io Leandro allora ciao Daniele e buonasera a tutti grazie per le tue lezioni ti sto ascoltando e scrivendo dalla macchina ciao buona lezione da Firenze grande sono stato a Firenze un paio di settimane fa e mi fa piacere sapere che ci sei anche in macchina grazie grazie quindi non era una domanda andiamo avanti spero che tu sia ancora qui per sentire Olindo dice come faccio a scaricare i tuoi video stasera ho trovato una sorpresa non mi funziona più 4k non funziona quel software perché ogni tanto viene messo fuori uso perché non è consentito youtube non gradisce che si scarichino i video perché non è consentito e quindi non farmi dire come faccio perché di fatto non lo so per il semplice fatto che quei software ogni tanto vengono messi fuori uso per una questione tecnica poi Marcus buonasera Daniele ciao a tutti grazie per il corso piano piano sto migliorando grande grande Marcus poi Massimo dice con Gmail i messaggi di posta in arrivo riesco a spostarli nelle cartelle i messaggi inviati invece vanno nella cartella vanno nelle cartelle ma non scompaiono dalla posta inviata dove sbaglio i messaggi inviati vanno direttamente in posta inviata fa un po' strano volerli tenere anche da un'altra parte però se vuoi che scompaiano dalla posta inviata la devi cancellare quello lo devi cancellare non so se li prendi e li trascini se ti crei una coppia verifica perché io semplicemente sinceramente quelli inviati non non li considero più di tanto ogni tanto li pulisco però se te li copia bene puoi eliminarli dalla cartella posta inviata diversamente no però non te lo so dire perché per me non ha tanto senso nel senso che non invio cose così importanti da dire questo è quello che ti ho inviato e quindi poi Patrizia ciao Daniele ok grazie dei complimenti allora siamo pronti queste sono le domande tutto la riga ciao Giancarlo ciao 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 mi ricordo di te vabbè vedo che sei anche un super abbonato da un sacco di tempo bello vedere la tua la tua chat sempre tutto ok bene ciao Roberto ciao Anna Mario buonasera a tutti e Mar Marcos dice ok forte chiaro bene allora vediamo una prima domanda è di Vittorino che dice buonasera Daniele vorrei installare Linux Linux X finale e niente S su un altro hard disk poi all'accensione si può dare la priorità l'uno all'altro grazie buona serata allora domanda interessante me la fanno in tanti sì Linux è un sistema operativo che posso installare affiancato a Windows quindi dico vabbè su un altro hard disk metto quel sistema operativo lì magari anche su un hard disk esterno su una pennetta o comunque da un'altra parte sì poi in accensione cioè se va tutto bene se fai tutto bene in accensione tu puoi dire Windows o Linux e vai e vai così l'unica cosa che capita da tempo ormai è che Windows per questioni di sicurezza o perché comunque non gradisce tanto essere affiancato ad altri sistemi operativi ma mettiamola per questioni di sicurezza perché c'è un importante componente in tal senso A cerca di avere il controllo dell'accensione c'è quello che si chiama l'avvio protetto io ad esempio sul mio computer ma su tutti ormai ho l'avvio protetto vuol dire che se io cambio le opzioni di avvio rischio di inguaiarmi rischio di non poterlo fare o di inguaiarmi e di trovare a non riuscire a fare tutte le cose come si deve perché c'è l'avvio protetto che protegge l'avvio fatemi ringraziare Flora ciao Flora vedo il tuo messaggio mensile da abbonata grazie 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 quindi non è più così semplice mettere Linux in affiancamento per farlo devo un po' lavorare sul mio computer per disattivare l'avvio protetto per cercare di metterli insieme i due eccetera e non sempre è una cosa facile da fare non sempre si arriva in fondo adesso con Windows 11 probabilmente è ancora peggio perché anche lui ha più controllo ancora sull'avvio e quindi devo modificare lo standard del mio computer che non vorrei perché l'ho comprato funziona bene tutto così mi trovo in difficoltà però se la scelta è avere i due sistemi operativi facciamolo ah una cosa importante se dopo aver fatto tutto questo lavoro qui io affianco i due sistemi operativi e poi Linux lo rovino lo faccio dei pasticci lo cancello a volte per rimettere tutto a posto mi tocca comunque formattare anche Windows per avere il computer a posto come si deve non con il ricordo di un Linux che non funziona e dei pasticci in giro quindi a volte devo pulire tutto oppure essere super esperto e quindi è un po' rischioso tra virgolette mettere Linux in affiancamento perché a volte faccio pasticci anche col mio computer originale fatemi ringraziare la super chat di Flora grazie infinite Flora grazie grazie super sticker grazie quindi l'alternativa adesso più facile è quella della macchina virtuale ci sono vari video in cui abbiamo parlato della macchina virtuale li troviamo nell'elenco qui sotto macchine virtuali dove sono vediamo macchine virtuali macchine virtuali e qui parliamo delle macchine virtuali e qui vediamo come creare un computer finto dentro un computer vero questo funziona proprio in dolore ho il mio Windows decido di usare Linux ok avvio la macchina virtuale Linux e lavoro finché voglio poi la spengo e stop quella macchina virtuale lì viene danneggiata non funziona ho fatto dei pasticci non la voglio più la cancello e non lascio assolutamente traccia nel mio computer e quindi è proprio facile in dolore senza modificare niente serve però un computer decente nel senso che con almeno 8 gigabyte di memoria RAM per riuscire a far funzionare Windows e l'eventuale macchina virtuale che io desidero utilizzare più memoria ho e più macchine virtuali contemporaneamente possono funzionare io ho 8 gigabyte di RAM e due funzionano egregiamente cioè Windows normale Windows 10 o 11 adesso Windows 11 in passato lo facevo con Windows 10 e la macchina virtuale lavorano fanno tutto senza darsi fastidio l'un con l'altro e quindi ci usa così questo Windows 10 che mi vedete usare è in virtuale è un computer finto dentro al mio Windows 11 e lo uso come se fosse un computer normale però ovviamente se c'è l'esigenza di un Linux affiancato si fa tenendo conto dei discorsi allora poi un altro Daniele che mi dice ciao Daniele ho aggiunto a Win11 e no dunque ho aggiornato a Win11 e non ho dovuto toccare niente ho ritrovato tutte le impostazioni precedenti compreso il percorso delle cartelle di sistema che avevo impostato nel disco D ottimo sì anche a me è andata così però è giusto dare un attimo un riscontro ho aggiornato tutto bene sta funzionando sempre bene ciao Augusto grazie infinite dell'uso della super chat grazie grazie Augusto allora poi andiamo avanti Alessandro dice farai qualcosa sulle reti LAN difficile difficile da registrare le cose e poi è difficile da far funzionare questi reti LAN anch'io avrei bisogno di mettere in rete due computer qui da me ma faccio prima a utilizzare tutto con Google Drive e fare da lì però vediamo adesso ho due Windows 11 vediamo se riusciamo a fare qualcosa in tal senso poi Mohamed dice come si fa a sincronizzare Google Keep del cellulare con quello del computer è semplicissimo basta usare lo stesso account quindi l'account che hai sul cellulare deve essere lo stesso che hai nel computer o viceversa insomma devono essere gli stessi account a quel punto quando tu vai qui in Google Keep dove vediamo Google Keep questo puoi scrivere le note a computer puoi scrivere le note a cellulare e si vedono a vicenda quindi se io qui scrivo una nota ciao adesso ovviamente non ha tanto senso ma ciao le do un colore magari giallo eccetera questa nota si vede anche sul cellulare purché sul cellulare ci sia lo stesso account e viceversa se scrivo sul cellulare la stessa nota la vedo qui sul computer e viceversa questa cosa la uso molto perché a volte mi capita di lavorare a computer ma a volte mi capita di lavorare anche quando sono in giro col cellulare quindi di rispondere alle email nei momenti di pausa o di attesa per una cosa o l'altra intanto scorro le email scorro i commenti eccetera e utilizzo le note per incollare per mandare link eccetera perché così ce li ho sempre pronti inoltre utilizzare google keep e quindi le note sul cellulare ci permette nel momento in cui cambio cellulare di ritrovare tutte le mie annotazioni in un posto nuovo cioè ancora sul cellulare cambio ma riprendo il cellulare nuovo ecco mi ritrovo tutte le mie targhe delle macchine le date di scadenza delle assicurazioni le misure delle gomme tutte le cose che mi piace avere di promemoria perché le ho salvate su google keep del cellulare di conseguenza vengono sul computer e quindi cambio cellulare le ritrovo le ritrovo sempre vanno sulla nuvola in definitiva queste cose con ovviamente l'attenzione cioè la consapevolezza che salvo sulla nuvola delle informazioni che sono al sicuro però comunque sono fuori dalla mia ottica di protezione quindi devo dare giusto peso a ciò che salvo in quella in quella situazione allora poi Daniele abbiamo visto Alessandro Mohamed Massimo dice con gmail i messaggi di posta ok lo sta lo sta riproponendo dice dove sbaglio non credo che sia un discorso che sbagli tu ma un qualcosa del funzionamento proprio poi saluto Mario saluto Tiberio ciao Tiberio e vediamo cuore di miele dice non bisogna trascorrere non bisogna trascurare niente secondo me brava bravo bravo hai ragione Sergio ciao Daniele potresti parlare del doppio spazio sul telefono come dicevo stamattina i Samsung non hanno questa possibilità allora con Sergio stavamo parlando del fatto di poter installare due volte la stessa applicazione sul cellulare bisogna questa cosa che il telefono l'accetti ad esempio gli Xiaomi almeno il mio hanno dual sim se non sono dual sim è difficile che già abbiano questo funzionamento hanno il modo di funzionare in doppio spazio cioè io in un unico telefono posso averne due quindi due password due cose e di conseguenza due app nel caso di Sergio si parlava dello speed lo speed mio e lo speed magari di un parente del quale lo gestisco io due app diverse all'interno dello stesso telefono perché all'interno dello stesso telefono ci sono due telefoni diversi e quindi posso avere questa possibilità dipende anche dal telefono che hai scelto nel senso che su questo funziona su altri sul tuo dici di no e quindi se non si può fare non si può fare e quindi ci si può orientare solo con un telefono diverso questa è l'unica cosa che mi viene in mente chiaro se avessi un telefono della marca come il tuo proverai a studiare guardare su internet eccetera per vedere se si può fare così come ho fatto col mio in passato era più facile si potevano avere la gestione dei due telefoni adesso sempre meno e quindi a volte si sceglie un telefono piuttosto che un altro anche in funzione di quello di quello che può fare solo che spesso lo scopriamo sempre dopo quindi non ti so aiutare Sergio in definitiva al di là di quello che ho io non ti so aiutare con altre marche ciao Salvatore che ci dà la buonasera Veronica ciao Daniele puoi fare vedere come velocizzare avvio e spegnimento di Windows 11 ma vediamo se trovo se trovo qualcosa grazie del suggerimento Veronica Tommaso dice buonasera Daniele come si può creare uno sfondo da inserire durante i webinar beh lo sfondo da inserire durante diciamo le videoconferenze eccetera è un'immagine quindi puoi creare una qualsiasi immagine avrà una misura ma se tu fai la misura del tuo schermo quindi se tu vai qui tasto destro impostazioni schermo otterrai una misura 1920x1080 nel mio caso questa è la misura del mio schermo se tu fai l'immagine di quella misura lì sicuramente non sbagli e quello è lo sfondo che puoi inserire poi il fatto che tu possa infilare uno sfondo dietro dipende dal supporto che utilizzi per fare il lavoro nel senso che ci sono programmi di videoconferenza che lo rendono facile programmi di videoconferenza che magari lo rendono un po' più complicato il segreto è avere alle spalle uno sfondo diciamo il più omogeneo possibile il più monocolore possibile e allora viene viene decentemente ciao Ornella grazie infinite per l'uso da super chat grazie 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 io di solito Tommaso uso Gimp per fare questi lavori che è un'applicazione gratuita mi sono sbagliato ho cambiato windows eccolo qua è un'applicazione gratuita che si scarica da internet è un programma di ritocco foto di creazione foto e quindi uso quello ma si può usare qualsiasi cosa per fare Nicola se può servire potrei spedire delle mie foto da utilizzare come sfondi info chioccio l'associazione maggiolina.it per farlo per gli sfondi del desktop desktop amici di maggiolina ne ho già ricevuti anche da Cristina e quindi li useremo grazie sono graditi l'importante degli sfondi delle foto che mandate è che devono essere vostre nel senso che è una foto che ho scattato io e non trovato da qualche parte o scaricato eccetera perché ci sono i diritti d'autore quindi chi ha scattato la foto potrebbe dire no quella foto lì l'ho fatta io devi pagare devi toglierla adesso guarda che ti mando lettere eccetera quindi è importante che la foto sia posta poi ovviamente è gradito Ivano ciao Ivano Franca dice un grande grazie al signor Daniele per la pazienza che ci riserva nello spiegare con parole semplici e con esempi pratici l'uso del computer grazie grazie Franca mi fa molto piacere sapere che apprezzi Tiziana dice grazie Daniele Veronica dice Daniele io ho provato a mettere la foto di Whatsapp dal mio cell al pc ma non risultano foto che devo fare senza vedere Veronica non posso non posso aiutarti dipende se ce ne sono probabilmente ce ne saranno però non posso aiutarti senza vedere ciao Luigi che ci saluta Nadia ciao Nadia poi Katia dice cosa fare prima di portare il pc a riparare chiedono password per poter entrare nel sistema c'è un'alternativa per evitare che vedano i miei file no è come andare dal medico devi andare da un medico che ti dà fiducia perché quello vede e sa tutto per cui se non è così non ci andare tieni presente che ai tecnici sai quante cose vedono quindi non gli interessa però effettivamente se non è di tua fiducia non ci andare perché comunque può vedere tutto puoi fare quello che vuoi ma può vedere tutto quindi serve scegliere una persona di fiducia Veronica mi dice che bello un altro sfondo per il nostro desktop foto fatte dal nostro Daniele grazie grazie allora Maria dove sono i mi piace io lo metto prima della lezione perché ogni volta apprendo qualcosa di nuovo forza ragazzi brava Maria grazie vedo che sono già tanti c'è ancora spazio per il mi piace c'è sempre spazio brava grazie anche del mi piace sulla fiducia mi piace questa cosa spesso devo dire che io quando guardo i video mi dimentico li guardo caspita se non lo sento dire dalla persona metti mi piace caspita non ce l'avevo proprio più in mente mi sta piacendo ma non ce l'avevo pensato e quindi è normale per quello ci sentite sempre dirlo Giuliano salve buona serata a tutti i partecipanti poi Tyrannosaurus Rex dice ciao un altro modo per passare da una scheda all'altra e control più numero quello è un altro discorso saltiamo da una scheda all'altra grazie infatti c'è sul nostro super elenco e lo vedremo in qualche momento poi ciao Emanuela Antonio dice le risposte alla chat sono riservate solo a chi si abbona saluti a tutti sì le risposte alla chat sono nei video abbonati perché comunque gli amici abbonati ci sostengono ci sono due video a settimana riservati agli abbonati uno è quello con tutte con tutte quante le risposte tieni presente che se fai la risposta che se fai la domanda presto come adesso la senti direttamente in diretta altrimenti sai che è nel video abbonati ma tu mercoledì prossimo puoi comunque rifarla puoi comunque mandarmi un'email ne ricevo tantissime quindi c'è sempre una via a volte le puoi trovare sulla nostra pagina facebook eccetera quindi c'è sempre c'è sempre una via però agli amici abbonati che ci danno un sostegno importante vogliamo comunque che abbiano video di qualità di contenuti importanti insomma e quindi le risposte sono gradite perché anche se la domanda non è tua certe volte si impara qualcosa io infatti le cose ormai che ho imparato le imparo grazie a voi rispondendo a queste domande poi Veronica oggi ho tante domande da farti quando apro Firefox mi si apre con Bing che devo fare per risolvere il problema porto pazienza oggi ho un sacco di domande beh bisogna cambiare la pagina iniziale ne abbiamo parlato nei video abbonati Veronica vedo che tu sei sei diciamo abbonata dalla coccinella se vai nella serie speciale abbonati qui dove ci sono tutti i 200 e rotti video ne abbiamo fatti tanti questo è l'ultimo poi andando indietro ci sono tutti gli altri troverai anche quello dove facciamo le impostazioni di Microsoft Edge di Firefox eccetera allora di Microsoft Edge sono sicuro di Firefox anche secondo me e dai un'occhiata lì lo vedremo di nuovo anche quest'anno nei prossimi video però intanto per non aspettare lo trovi da lì non è un problema è semplicemente una preferenza diversa ovviamente allora poi Bruno mi dice buonasera volevo chiedere se si possono fare domande anche fuori dalla diretta perché non sempre posso seguirti in diretta Bruno se mi puoi scrivere a info chioccio l'associazione maggiolina.it tenete conto che ne ricevo tantissime ormai mi trovo a rispondere alle domande ovunque praticamente a volte faccio dei pastecci a volte una l'oletta poi dopo no questa è troppo complicata devo rispondere dopo poi mi dimentico la perdo la cancello eccetera certe domande sono lunghe così e quindi mi serve un sacco di tempo quindi la diretta sappiamo che in diretta rispondo qui o rispondo poi in registrata a queste domande le altre fatemene perché rispondo tantissime se vedete che la risposta non arriva insistete magari con un'altra domanda perché semplicemente l'ho persa o è arrivato in un momento in cui dopo non potevo rispondere poi ne sono arrivate altre 200 sopra e quindi non sono riuscito brevi se avete tante cose da chiedere un messaggio alla volta così almeno quello leggo dice la risposta quella arriva se invece devo fare uno questo due tre a volte mi arrivano otto dieci punti ci vuole tutta la giornata per rispondere solo a una persona diventa diventa complicato e se mi dite non hai risposto alla mia domanda puoi rispondere adesso non me la ricordo più nel senso che ne ho perso non ce l'ho più eccetera quindi riproponetela poi Antonio Matteo dice ma perché non hai Windows 11 installato certo che ho Windows 11 installato eccolo qua il mio Windows 11 vedi la barra di Windows 11 cerco di fare i corsi ancora con Windows 10 perché non tutti hanno Windows 11 ancora e quindi intanto andiamo avanti con Windows 10 la parte internet comunque è uguale nonostante questo però anche il video di oggi per esempio è uscito in Windows 11 perché comunque le cose erano i video di ieri anche perché comunque le cose sono uguali allora poi vediamo un po' puoi fare un video sulla sincronizzazione vedremo di farlo Veronica altra domanda la cronologia conviene cancellarla ottenerla beh ormai lo sai Lucia ciao non riesco a installare la l'applicazione sarà l'applicazione però non so né quale e quindi non so come cosa risponderti certe volte certe cose non non possiamo senza vedere non posso non posso dire cosa come fare che ore sono siamo allora ho il microfono ho cambiato il microfono e questo è talmente grande che mi copre mi copre l'orologio ma abbiamo ancora qualche minuto allora Veronica io ho sincronizzato tutti i miei browser allora Anto Daniele come si elimina nel tel il messaggio pop up che dice vuoi visualizzare il sito in modalità semplificata sai che non lo so nel senso che non non mi è capitato mai di vederlo tu però probabilmente utilizzi il sito in modalità desktop e quindi probabilmente lui vuole proporti il sito il sito per app non te lo so dire senza senza vedere non ho proprio idea di come sia Michele i dati di navigazione quanto tempo rimangono sulla cronologia dipende dal tipo di impostazioni non ti so rispondere potrei dire 90 giorni ma non ti so rispondere di preciso quindi non lo faccio vedremo se troviamo in seguito una risposta a volte si può andare su google e dire cronologia cronologia chrome quanto quanto dura vediamo quanto dura e guardare l'unica nota da fare è che chrome conserva i dati della cronologia nel browser per 10 settimane circa come indicato nella pagina guida di google chrome questo è un sito che lo dice eccetera di solito cerco solo cerco i siti che parlano supporto google eccetera visto che parliamo di google in questo caso perché loro ci possono dare l'aggiornamento la versione aggiornata e quindi si potrebbe anche scrivere cronologia cronologia e vedere se ci dà delle istruzioni qui ci dice un po' di cose supporto google quindi questo è il sito supporto google posso andare a premere qui e vedere un po' tutto c'è il manuale di tutto molte persone si dicono ma non c'è più il manuale una volta c'erano i manuali in realtà adesso c'è tutto c'è talmente tutto che poi dopo non sappiamo più andare a cercare bisogna capire appunto se ci dice quello che ci interessa e leggendo poi trovi trovi tutte le informazioni allora in questo caso visto che siamo qui eliminare la cronologia di navigazione di chrome ma chrome non c'è solo su un computer c'è anche su android quindi queste istruzioni sono per android quindi sul cellulare queste istruzioni premendo qui sono quelle sul computer quindi da computer e queste istruzioni sono per iphone e ipad perché hanno un sistema operativo diverso c'è comunque chrome quindi c'è sempre da fare questo discorso vedere le cose spesso da una pagina si finisce in un'altra e si trovano le soluzioni in questo caso non c'è scritto comunque quanto dura a volte potrebbero anche non darci la risposta giusta probabilmente perché non vogliono neanche darcela vediamo un'ulteriore informazione sui tipi di dati di navigazione che è possibile eliminare per eliminare cronologia delle ricerche scopri come cancellare l'attività o bene nelle cose per sapere quanto dura nel tuo computer potresti anche andare sui tre pallini cronologia cronologia premere su cronologia scorri e vedi fin quando è l'ultima data nel mio caso questo ad esempio ok perché stavo dicendo caspita ma questa cronologia l'ho appena cancellata come mai perché questa è quella di Windows 11 quindi altro account e quindi altre cronologie adesso non ho modo di andare a vedere in diretta ma comunque c'è modo di saperlo allora l'ultima domanda e poi ci fermiamo siamo arrivati a Michele Gianluca i cookie tracciano il pc va bene Gianluca nel senso che tengono memoria di alcune cose se sei stato su un sito oppure no però se li togli non hai non hai la funzionalità del sito non non al 100% e a volte neanche al 50% quindi ci sono servono per funzionare certo vengono usati anche a vantaggio dell'azienda ad esempio le pubblicità sono mirate però dobbiamo scegliere se usare le cose o se mi dicono senti io preferisco la mia privacy e invece di guardare internet leggo un libro a quel punto lì insomma ci gestiamo siamo consapevoli di questo e ci gestiamo Veronica bisogna cancellare la cache beh ne abbiamo già parlato caspita mi è scappata avanti adesso la nostra chat e devo proprio nel momento in cui devo salvare il punto in cui sono arrivato ci siamo quasi ho sincronizzato tutti i computer eccoci qua bene allora Teodomiro buonasera a tutti Daniele arrivo ora ciao Teodomiro Franco ci saluta e quindi siamo arrivati in fondo alla nostra riga per cui adesso ho selezionato tutta la chat rimanente non sono tante CTRL C per copiare vado qui chiudo tutto prendo il blocco note blocco note incollo la chat CTRL V e la salvo adesso la vediamo in grande ma c'è tutta la salvo eccezionalmente dico sempre sul desktop perché così ce l'ho qui in bella vista e risponderò chat 2 marzo 2 marzo salva e sabato salvo imprevisti non ho guardato dove l'ho salvata molto male allora file salva con nome è andata a finire in documenti io la voglio sul desktop eccezionalmente clicca salva ora arriva qua eccola e quella in documenti devo andare a cancellarla esplora file documenti altrimenti è un file che rimane lì a non fare niente chat chat vediamo se la troviamo eccola qui chat del 2 marzo canci per cancellarla bene ragazzi grazie della compagnia siete stati in tanti anche questa sera è sempre bello vedere che c'è interesse grazie per il mi piace vedo che sono tanti un ringraziamento speciale a tutti le super chat tutti i super sticker a tutti gli amici abbonati e a chi ci sostiene in tutti gli altri modi che trovate sul nostro sito che trovate comunque navigando nei nostri social grazie perché per noi è un sostegno importantissimo e imprescindibile quindi grazie infinite ci vediamo in diretta mercoledì prossimo alle 18 e come sapete tutti i giorni sul canale c'è un video quindi vi aspetto sul nostro canale vi aspetto sugli altri social che ci sono in giro fateci magari un saluto anche là mettete un mi piace e tutto quanto e ci vediamo domani ciao quindi io adesso vi ho salutato ma devo andare a schiacciare il bottone giusto adesso ci sono ciao ragazzi ciao ciao Grazie per la visione!